Nuova puntata quella di Ieri dei soliti gnoti, il programma condotto da Amadeus e pensate che ieri proprio in tv c'era presente la bella, brava e simpatica Giovanna Cevitillo si gioca per devolvere il monte premio al centro a stalli tante le gag e i momenti divertenti tra lui e lei, tra lei e lui Amadeus si è avvicinato a Giovanna e gli avrebbe detto noi siamo congiunti, possiamo stare per fortuna vicini tra feeling piuttosto divertente e gag davvero molto buriose diciamo così che avviene anche un botta risposta tra le stesse Civitillo e Amadeus ma lui poi l'avrebbe giulato e avrebbe chiesto che cosa ha detto, punto ditto negativo insomma nella parte finale la Civitillo arriva con 77.000 euro circa la bella Ciutero utilizza tutti gli aiuti, gioca per 30.800 euro circa ma non riesce a indovinare il parente misterioso il feeling però continua a proseguire però da come si legge sul web non sembra aiutare la bella Civitillo vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate e fatevi sapere che cosa ne pensate ieri era il primo giugno 2021, oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana ciao a tutti da Leandro, narratore italiano